amici ben trovati sul mio canale in cui parliamo di orchidee oggi ritorniamo alle falenopsis e alla fibra di cocco perché ho qualcosa da farvi vedere con mia grande soddisfazione allora le fioriture delle falenopsis allora questo è un ramo con questa questi sono tutti quanti boccioli che voi vedete e l'aggiornamento sulla fibra di cocco perché è importante farlo allora questa è un'altra falenopsis non mi dite il nome perché penso avermelo perso il bigliettino già da tempo questa è un'altra guardate quanti boccioli quanti fiori quanto stelo ma soprattutto per la prima volta mi viene fuori il secondo stelo il terzo rametto vabbè ce ne sono parecchi allora tutto iniziato per scommessa perché volevo mettere in fibra di cocco qualche orchidea visto che fibra di cocco è tanto discussa il substrato del futuro e il substrato da assolutamente evitare allora se qualcuno non fa la prova non avremo mai la risposta e quindi mi sono deciso a metter giù queste falenopsis sono le radici che voi vedete che puntano verso il basso perché verso il basso c'è più umidità qui asciutto e qui la radice va verso il basso sotto ci abbiamo già delle radici qua abbiamo altre radici adesso finalmente posso dopo cinque mesi di presenza su youtube cinque mesi di di prove farvi vedere qualcosa perché sennò uno è bravo a dire no prendete questo mettete quest'altro provate con l'aglio provate con l'estratto provate con quello che volete ma tanto se non ci sono poi fatti è difficile che uno può fare una valutazione ma questa si deve aprire però volevo farvi il video oggi quindi vedremo che colore non me lo ricordo sinceramente va bene allora vedete che qualche zona del basso è asciutta perché perché questo vaso sotto ai fori classici fuori della vasso per orchidea quindi la fibra di cocco prima cosa assolutamente importante si bagna tantissimo ma si asciuga in fretta additura si asciuga sotto quindi nella scelta dei vasi tante volte ecco questo è chiuso come vaso ha dei fori piccoli sotto giusto per dire che ce li ho fatti io perché non lascio la pianta completamente nascosta o completamente sommersa nel vaso chiuso ci sono sempre di fuori anche questo essi erano dei vasi che avevo utilizzato per i fragmipedium vedete le radici vanno verso il basso proprio perché si crea che superficie tende ad asciugare sotto tende ad asciugare quindi la zona utile quella centrale no quindi le radici vanno verso il basso qui vedete qualche accenno di radici questa è bellissima questo è il keghi questo è il keghi che ho salvato questo qua è il keghi che ho salvato tempo fa un anno fa era gennaio dell'anno scorso l'ho salvato da un orchidea morta ho fatto il video anche su questo questo potete togliere quando vedete che diventa così rossiccio questo è andato non fiorirà più allora o lo lasciate o lo togliete io lo tolgo e via se riesco a non far danni lo togliamo eccolo qua tanto questo non fiorirà più la pianta l'ha abortito così si dice perché i perché sono da ricercare nelle cose più strane tanto la temperatura è uguale per tutte e le condizioni di cultura sono uguale per tutte quindi ha deciso lei di di non tenerlo e buonanotte allora andiamo avanti vediamo altre radici qua sotto e questo è un altro tipo lo sia di orchidea bellissima quando si apre sembra è bellissima piace tantissimo quando sta in questa situazione qui vabbè quando è aperta eccola è poco da fare no però quando sta per riaprirsi così sembra non so buon musetto dell'animale un musetto forse ci vedo un agnellino forse neanche c'è però però quella sensazione come se fosse un animaletto costi orecchie così grandi che deve piace tantissimo quando sta in questa condizione di semi apertura allora i vasi questi abbiamo detto sono vasi di fragmipedium e hanno dei fori sotto perché un vaso chiuso abbiamo detto non ci può stare i vasi sono pochi e i buchi cioè meno buchi ci stanno più mi si mantiene l'umidità all'interno del vaso e una cosa importante che ho fatto in questi mesi in cui ho presentato queste phalaenopsis e sono contento oggi di farvi vedere fioriture e radici una volta solo sono arrivato a bagnarla fino in fondo ma come dico sempre l'acqua non è uscita sotto ho visto semplicemente che mi diventava scuro sempre di più substrato fino alla base beh riempita d'acqua in quelle condizioni per 20 giorni periodo invernale quindi febbraio per 20 giorni non ho dato più acqua di solito arrivo sempre fino a qui cioè questo è chiaro domani sarà ancora più chiaro io bagno fino a un terzo una volta solo ho bagnato fino a terra per 20 giorni l'acqua assolutamente da non dare perché poi si rischia di di fare danni vede qua sopra sopra è asciutto allora il mio segreto è questo quando vedo che sopra è asciutto aggiungo l'acqua praticamente è come se io pesassi l'acqua il concetto della fibra di cocco che uno deve pesare l'acqua cioè non gli ne va data un millilitro due millilitri 100 millilitri in america il concetto del peso dell'acqua va in base al peso del vaso un 10 per cento del peso del vaso quindi uno quando ridà l'acqua la volta successiva devi riequilibrare quel 10 per cento cioè il vaso mettiamo pesa 100 grammi tu gli devi dare 10 grammi d'acqua in modo tale che mantieni sempre quel peso di acqua ecco la specifica nella fibra di cocco come se andasse a peso non va a bicchieri o a misura la misurazione di liquidi va a peso io ho fatto mia questo questa esposizione questo concetto e quindi di conseguenza mi limito a bagnarlo per due terzi tanto sotto rimane sempre umido quando vedo in cinque mesi è successo una volta che era asciutto anche sotto ho dovuto praticamente far scendere l'umidità fino a terra ripeto sotto ci potete mettere qualunque pianta perché a terra non mi è mai andato vabbè a me in casa fa comodo che l'acqua non va sotto a meno non faccio casini qui vedete che c'è l'umidità la classica caratteristica e qui c'è l'umidità sufficiente per per le radici quindi vedete che anche questo quadri vaso questo grande ci sono radici ecco vi posso far vedere che nella fibra di cocco funziona la prossima volta qui ci sono secrezioni che la pianta butta fuori che poi diventano queste secrezioni dolciastre mielose appiccicose che poi diventano la base di futuri che schifo futuri forse attacchi di cocciniglie la mano adesso completamente appiccicata sono secrezioni appiccicose che la pianta segerne forse in occasione di questa ferita qui forse in occasione che qui c'è qualche animalaccio malefico ho perso l'uso della mano perché appiccicosissimo quindi qualche volta ecco dedichiamo tempo a osservarle le le piante perché sotto le foglie chiaramente la cuciniglia viene contro contro di noi quindi si va da annidare dove non la vediamo ritorniamo sopra allora discorso la fibra di cocco l'abbiamo fatta la prossima volta e sono partito in fibra di cocco pura la prossima volta farò uno step in più chiaramente per non standardizzarmi per non rimanere sempre nello solito standard metterò o agri berlite o pietra bomige l'agri berlite è più pratica perché è più fina però l'agri berlite tende a diventare verde soprattutto nei masi trasparenti con la luce artificiale diventa verde qualcuno anche lì no discorso fibra di cocco buonissima fibra di cocco assolutamente pericolosa l'agri berlite è lo stesso discorso qualcuno è incantato affascinato dell'agri berlite qualcuno dice no per carità come super stato non mi piace perché è diventa verde perché è un materiale che viene forse trattato un po di più rispetto all'agri berlite o la pietra bomige che sono meno processizzati meno meno lavorati e se dovessi fare il prossimo rinvaso aggiungerò qualche cosa lo sto facendo già con chingiano me l'ho fatto vedere nel video metterò qualcosa giusto perché macro pori e micro pori significa questo così addensata come fibra sono tutti i micro pori macro pori e quando c'è qualche sasso qualche inerte che interrompe i micro quindi micro e macro pori lavorano in modo tale che passa più ossigeno perché di combatta tutta questa densità di fibra ripeto a me la fibra ha funzionato stanno bene le piante non hanno segni di stress e poi ve le faccio vedere da sopra e evita la compressione perché quando è bagnata la fibra si combatta per poter far passare ossigeno fibra di cocco deve alleggerirsi decomprimersi gesti decomprime si alleggerisce solo quando si asciuga o oppure sta in un vaso di terracotta oppure con l'inerte dentro facciamo sì che praticamente i micro pori ne sono di meno ci sono più macro pori cioè più pezzi grossi e di conseguenza c'è una migliore ossigenazione della pianta stessa saliamo sopra vi faccio vedere allora la pianta non dà segni di sofferenza perché le foglie sono belle turgide diciamo non vado alla ricerca del cosa sarà scusate il dito ma lo so l'altra mano completamente appiccicata e non vado guardando cosa sono questi segni non lo ve lo so neanche dire tecnicamente perché la pianta li sia spaccata importante che la pianta stia bene l'importante che la pianta faccia il suo lavoro e quindi mi soddisfa questo vedete la cosa che ho notato con la fibra di cocco quest'anno è che ci sono tantissimi qui no perché la pianta ha fatto solo uno e poco come come sviluppo di fiori ma se guardate queste altre cioè sono tanti 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 mai successo a me uno stelo due steli tre steli quattro steli cioè lo stelo è unico ma sono 4 4 di ramazioni 1 2 3 4 se quella centrale più altre tre e quindi tanti boccioli tanti boccioli adesso questo non vi so dire sia una caratteristica della fibra di cocco perché la pianta sta bene eccetera queste sono radici vecchie non ne fate caso perché tanto è un gondino tra radici vecchie secche che si anneriscono poi la tanto l'orchidea la falenopsis e ne fa altrettante fuori quindi diciamo che è una macchina da guerra perché ha radici sotto radici sopra e poi può produrre un'altra piantina dallo stelo può produrre un'altra piantina alla base quindi diciamo che per farla secca ce ne vuole guardate quanto è grande questo questo gambo è quasi grosso quanto è un dito questa è partita più in ritardo la lascio stare all'interno c'è cocciniglia eccola qua l'ho già trattata poi la ritratterò quella godonosa ho fatto caso che ce n'è di meno quest'anno forse perché ho aumentato la ventilazione forse perché ho aumentato l'esposizione alla luce comunque eccole la ci sono loro fanno il loro lavoro e io faccio il mio anzi guardate che lo facciamo insieme il lavoro perché tanto documento importante documentare eccolo qua dove sei cifo insetticida anti cocciniglia già ve l'ho presentato semplicemente vado a spruzzare lì su quella vedete in questa situazione qui c'è la cocciniglia se la avevo già trattata però ovviamente sono nate le uova si sono chiuse e via allora se vedete 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 come tipologia di sono piante vecchie queste queste ci hanno almeno quattro anni se non cinque e solo quest'anno mi sono deciso a metterle in questo andate altra altro materiale appiccicoso qua sopra guardate che roba poi non so come farò a chiudere e la telecamera per la ripresa in qualche modo farò mi sono appiccicato tutto non pensavo va bene allora vedete che ci sono parecchi cetti parecchi fiori le orchidee sono bellissime qui già abbiamo qualche patologia in atto oddio questa foglia non è bellissima dovrebbe essere un attacco fungino con qualche batteriosi forse più batteriosi però siccome c'è un'altra foglia nuova che non da problemi le lascio non le tratto ripeto non sono un trattatore di di orchidee e lascio stare perché sennò potrebbe essere errori anche di coltivazione precedenti e tante cose vedete come all'interno lì si è asciugato il substrato le radici sotto ci sono ci sono questi segnetti neri cioè sono esseri viventi quindi come essere i viventi hanno delle caratteristiche loro di problematiche esistenziali se mi metto a trattarle le dovrei trattare tutte poi rischi che sbagli il dosaggio o perché stanno in fioritura preferisco lasciarle lasciarle in pace e vedete poi alla fine tirano fuori la foglia più bella nonostante che se andate a guardare qualche macchietta cioè io vedo nei gruppi questa ricerca quasi no pazzesca della sintomatologia del perché del per come guardate qua sotto c'è un segno di un segno di e non lo tocco dopo tutto sono esseri viventi anche loro giusto che si adattano e se c'è qualche foglia la taglio come avete visto su qualche restrepia la taglio così non mi contamina la pianta però segni ci sono evidenti di di vita vissuta questa si è rotta a me perché è caduta questi sono segni di qualcuno dice tripidi ma i tripidi non ce li ho la pianta è rimasta qui e poi ha fatto delle foglie che sono sane vabbè l'importante cerco di garantire il meglio che posso nel trattamento delle radici della aereazione dei congimi e tutto il resto poi qualcosa saranno sicuramente queste questi segni qua saranno sicuramente batteriosi e le lascio stare insieme perché poi hanno creato un microclima tra di loro un po di tempo che stanno insieme per quello che riguarda trattamenti specifici se li volete fare io non sono più esperto nel senso che questa foglia qui ha dei segni scuri quando ora levo la foglia e ciao a qui potrei intervenire anche adesso con le forbici a tagliare la foglia ci metto 0 secondi però la lascio stare anche perché è rimasta così da parecchio tempo qualcosa c'è dopo ripeto queste sono tutte quante orchidee che abbiamo preso nei garden non dai dai grossi produttori dove prendo tutte le altre queste vengono dai garden e vicino casa quindi sono piante che di stress già in partenza portate a casa ne ricevono tantissime e quindi non sono in grado di fare c'è chi sceglie di trattare c'è chi sceglie di non trattare dopo qui è la cosa soggettiva come la fibra di cocco come l'acri per lite all'interno della coltivazione delle orchidee importante è non schierarsi perché c'è chi dice pro e chi dice contro di qualunque cosa importante che vi trovate bene voi cioè io vi propongo la fibra di cocco ma se va bene come voi fate ce l'avete come argomento solo per conoscenza non perché dovete per forza cambiare io ripeto qualcuno doveva pure buttarsi nel nella fibra di cocco per vedere se va se non va quello che viene fuori mi son buttato io mi son gettato nella fossa di leoni poi qualcuno dirà butta via per carità è pericolosissimo ho avuto dei commenti in cui mi avete letto vada che per carità come substrato poi lo scopriremo lo vedremo cambierò dirò però per ora vi posso solo che dimostrare che funziona nei soldati ce li ho tantissime fioritori sono soddisfatto l'unica cosa ecco questo upgrade cioè questo miglioramento che farò poi prossima volta che l'era invaso di mettere qualche inerte in più all'interno un 30 per cento giusto per dare più ossigenazione e tutto qua spero di aver risposto un po le vostre domande e le vostre perplessità questo è quello che vi propongo io e ci vediamo poi al prossimo aggiornamento prossimo appuntamento con le farinopsis quando poi deciderò di guardate che radice cicciotta quando deciderò di fare qualche modifica qualche miglioria a queste bellissime orchidee che hanno resistito la mia coltivazione grazie di avermi seguito spero di aver risposto un po le vostre perplessità e andiamo avanti a testare quello che viene fuori con con questa fibra di cocco grazie di avermi seguito a presto